Musica Musica Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con l'uscita numero 16 della linea Yataman Cut Collection e siamo qui per presentare il mitico maialino su palma Musica Allora, diciamo qualche curiosità sul nostro maialino lui compare quando i mecha del trio trombo e quelli del duo Yataman combattono e lui viene chiamato maialino adulatore perché praticamente capta la falsità di quando mi sdrogno e fa complimenti falsi a voi Yataman per spronarlo a vincere la battaglia e la sua frase più celebre è anche un maiale sa salire su un albero se viene adulato Musica Anche un maiale può arrampicarsi su un albero quando viene adulato e in Giappone è diventata molto famosa questa frase viene usata anche un po' come un proverbio Allora ragazzi andiamo a vedere il nostro maialino nel dettaglio come vedete qui è sempre la nostra solita scatola abbiamo le future uscite e quelle passate anche se ormai di future uscite ne sono veramente rimaste molto poche questo è il retro della scatola dove ci sono tutte le collaborazioni questa è la foto di quello che c'è dentro al box e guardiamo il nostro maialino che andremo ad aprire Allora ragazzi ecco qui il nostro maialino come vedete la basetta con il nome non avrà un nome non lo so maiali su palma con il rilievo la pietra e andiamo a vedere il nostro maialino nel dettaglio beh devo dire che in confronto certo non è che sia proprio come vedete qui ci sono ripassati solo con il colore quindi si viene però qui nel sample sono un po' sono andati col grigio sopra anche qui come vedete una bella spennellata di grigio però diciamo in confronto a tante altre uscite precedenti ma c'era molto peggio non c'è stato di molto peggio anche qui vedete la palma è sbavata con il colore del maialino beh la palma vedete è colorata bene anche perché non c'era modo proprio di poter sbagliare ecco qui la botolina da dove esce il maialino beh ragazzi vi mostro in questa uscita c'era anche questo fogliettino che ci invita ad acquistare le prossime uscite della raccolta in dvd ragazzi però già abbiamo concluso ci vediamo la prossima volta con l'uscita numero 17 Yatta Lefante ciao a tutti Yatta Man Yatta Man al gran filone d'oro Yatta Man Yatta Man buona guardia fa Yatta Man Yatta Man divertente ma severo coraggioso e battagliero Yatta Man Yatta Man Yatta Man nemico da battaglia Yatta Man Yatta Man con gran comicità Yatta Man Yatta Man vinci in ogni guerra sentinella della terra Yatta Man sopra i grattacieli o nel deserto fai un'arrivo un'arrivo che non e a un'arrivo che non è un'arrivo che non si Grazie a tutti.